Siamo molto contenti di quello che sta succedendo perché c'è un bellissimo riscontro da parte di chi lavora in questo settore, da parte dei ristoratori, da parte dei produttori di olio, da parte di chi vuole fare impresa nel settore della ristorazione e vuole apprendere dai guru, vuole imparare a fare bene, vuole capire quali sono i punti di forza, quali sono le tecniche, le strategie per far sì che la ristorazione sia una ristorazione di qualità e che arrivi al cliente e vuole capire anche quali sono le dinamiche, le difficoltà a cui deve far fronte, quindi come ovviare a queste difficoltà. Io penso che il primo obiettivo, cioè quello di creare qualcosa che fosse per la Puglia e per gli attori pugliesi è stato raggiunto perché noi non dobbiamo per forza dover andare a Milano, agli eventi Milano per poter avere delle risposte o delle personalità importanti, quindi noi con Chef in Cattedra abbiamo un attimo voluto invertire la rotta e abbiamo detto no ma aspettate, venite voi qua perché noi vogliamo sapere, siamo attenti, vogliamo conoscere. Poi ogni persona, ogni docente che è venuto ha portato un pezzo della propria storia ma anche un pezzo della propria passione, a partire da Paolo Marchi che con l'identità golosa è arrivato alla decima edizione e per noi la testimonianza più evidente di come dal nulla con la convinzione, con la volontà, col sacrificio si possa costruire qualcosa che poi diventa importante ed è un riconoscimento a livello internazionale. Ma lo stesso dicasi per Maria Cicorella che vive a Conversano, ha avuto un riconoscimento con la stella Michelin ed è un riconoscimento bello per una realtà piccola come quella di Conversano. Questa è la testimonianza che c'è una Puglia che si muove, che cambia, che è attente, che è lo stesso consumatore, quindi lo stesso commensale, sceglie la qualità, la prediligia. Quello che noi cerchiamo di fare con Chef in Cattedra o comunque con tutte le nostre attività è proprio la cultura a tavola. Stamattina abbiamo parlato dell'imprenditoria nel settore gastronomico italiano negli Stati Uniti e quindi di tutte le sfide che l'imprenditoria comporta negli Stati Uniti per via ovviamente delle grosse differenze tra la cultura gastronomica italiana qui in madrepatria e quella invece negli Stati Uniti. Ho messo su questa azienda che si chiama Great Corner Mines praticamente due anni fa ed è diventata fortemente operativa nel settore da qualche mese e il desiderio di cambiare un po' le cose negli Stati Uniti è praticamente la forza motivante dietro alla creazione di questa azienda. L'enogastronomia italiana negli Stati Uniti purtroppo è oggetto di grosse manipolazioni da parte sia degli imprenditori italiani che di imprenditori di altre provenienze. C'è scarsa conoscenza dei prodotti italiani anche da parte del consumatore e ci sono grossissimi altri problemi come per esempio l'infiltrazione sul mercato americano di prodotti che sembrano italiani ma non lo sono, vengono spacciati per italiani ma non lo sono che stanno danneggiando l'export per i produttori italiani negli Stati Uniti per cui è ora che qualcuno inizi a cercare di cambiare le cose. Quindi in questo spirito ho iniziato questa compagnia che come ho detto si chiama Great Corner Mines e una delle cose che faccio è organizzare dei programmi a scopo educativo per esempio eventi coinvolgendo chef per, naturalmente per sensibilità, per generare una maggiore consapevolezza tra i consumatori americani di quello che è veramente italiano quindi non solo promuovere i prodotti ma anche insegnare magari a usare quei prodotti in cucina perché è certo che se il consumatore americano non sa usare un determinato prodotto in cucina non lo comprerà mai. Ma quali sono le principali differenze tra uno chef americano e uno chef italiano? Rispondo con una citazione, una frase che ho sentito in un'intervista fatta a Fulvio Pierangelini che è un grosso chef italiano, ha detto che, riferendosi alla cucina francese ma questo secondo me vale un po' in generale lui ha detto che la cucina francese si impara, quella italiana o la si ha nel DNA non si arriva mai alla perfezione questa è fondamentalmente la differenza tra gli chef americani e quelli italiani lo chef americano può provare a imparare la cucina italiana da un punto di vista tecnico probabilmente ci riuscirà anche dal punto di vista etnico? No, 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 no Grazie a tutti.